Campania però Seversa posizione per il primo spese Calle cari di fin 오빠 sono venute nell'orario più caldo al pranzo in più per incitare e sostenere tutti gli atleti Doveroso ricordarvi che la medaglia più bella non è quella che vediamo sul podio, ma è la medaglia che date voi con la vostra passione, con l'entusiasmo, con la considerazione, con l'ammirazione dei nostri ragazzi. Allora ci permettiamo di dare un attimo di pausa a questa, diciamo così, semplice di seguire questa gara per la premiazione dei 300 piani massimi. Attenzione perché questa premiazione vede al primo posto una strettitosa stessa signora prestazione italiana. Il terzo posto la consegna dell'Italia da Marco Melanzi, presidente della fila dell'Unione Romagna, prigia nazionale della donna stia. Intanto qui nel primo rapporto che ho fatto al passato a circa 20 gara. Secondo posto 35-55 Francesco Bertocca del primo di Venezia Giulia. Si avvicina intanto al suono della campana per l'ultimo giro nel 1200 maschile e vince la gara con un applauso strepitoso 34-07 demolito sui ratti italiani del Lazio, Lorenzo Benatti. Si può prendere la metà, ha giocato l'ultimo. Si è giocato il Paglia, oppure uno dell'altro è il presidente invece delle amiche domani. E' una delle foto più belle di questa giornata di diffidenza, questo risultato del intercinto. Intanto testa della gara, testa della gara dei 1220. Vai Abe! Vai Abe! Vai Abe! Vai Abe! Guardate che finale delle siepi cerca di resiste. Bravo Abe Abe! Bravo Abe! Bravo Abe! Grazie a tutti.